10 milioni di euro a tanto ammonta il patrimonio sequestrato a titolo preventivo ad un uomo residente in provincia di Piacenza, condannato per il 416 bis ritenuto appartenente a Cosa Nostra e in particolare al clan Rinzivillo di Gela. L'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bologna a seguito di richiesta della DDA della Procura della Repubblica Filsinea è stata eseguita nella mattinata di oggi dai militari del Comando Provinciale di Piacenza, supportati dai colleghi di Bergamo, Caltanisetta, Milano, Pavia, Pisa e Verona. È stato sequestrato il patrimonio personale dell'uomo e di alcuni suoi familiari, composto da un complesso immobiliare di pregio in provincia di Piacenza, all'interno del quale vi era anche la sua abitazione, ed ancora la totalità delle quote societarie di tre aziende operanti in campo edile, con sede nel Milanese ed in Sicilia. 93 immobili e due terreni ubicati in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, 39 a 8 veicoli, 5 conti correnti bancari, una polizza assicurativa sulla vita e le quote di un fondo di investimento.